ciao a tutti questa è la terza parte della sezione relativa alla fonetica e alla linguistica nel secondo video vi ho parlato dei fonemi vocalici mentre oggi ci soffermiamo sui fonemi consonantici allora abbiamo detto che in francese i fonemi sono 37 di cui 19 sono vocalici e 18 consonantici oggi andremo a vedere nello specifico le consonanti occlusive fricative e vibranti allora le consonanti occlusive che cosa vuol dire occlusivo sono quelle consonanti che si producono attraverso la chiusura o occlusione nel canale fonatorio quindi questa occlusione avviene nella bocca seguita da un brusco rilascio detto esplosione abbiamo vari tipi di occlusive allora abbiamo le occlusive bilabiali come p o b si ottengono con la chiusura delle labbra poi abbiamo le occlusive sorde che si ottiene senza vibrazione delle corde vocali poi abbiamo le dentali o alveolari in questo caso bisogna accostare la punta della lingua agli incisivi superiori o agli alveoli degli incisivi superiori e otteniamo ad esempio il suono t occlusiva dentale sorda o d occlusiva dentale sonora poi abbiamo le dentali o apicali alveolari per esempio n che è una nasale dentale e per finire abbiamo le velare o gutturali come c occlusiva velare sorda e g occlusiva velare sonora in questo caso il suono viene prodotto quando appunto la lingua il dorso della lingua si avvicina al velo del palato in modo che l'area costretta da questo ostacolo produca un suono alla sua fuoriuscita adesso passiamo alle fricative parliamo di fricative costrittive o ostruenti quando vi è un restringimento tra alcuni organi della cavità orale che si avvicinano ma non si chiudono completamente e producono quindi un rumore di frizione abbiamo tre tipi le labio dentali le dentali e le palatali per quanto riguarda le labio dentali il suono avviene attraverso l'unione o l'avvicinamento del labbro inferiore con gli incisivi superiori e abbiamo ad esempio f che è una fricativa al labio dentale sorda v fricativa al labio dentale sonora passiamo alle dentali allora abbiamo il suono s fricativa alveolare sorda e z fricativa alveolare sonora e poi abbiamo le palatali che si ottengono appunto col dorso della lingua a contatto con il palato e abbiamo il suono ch che in francese si ottiene con ch ed è una fricativa apposta alveolare sorda ad esempio chaud, cochon e così di seguito e poi abbiamo il suono je che è una fricativa apposta alveolare sonora jour, jean eccetera e infine abbiamo il suono gne che è una nasale palatale sonora per esempio il verbo gagne vincere per finire abbiamo le vibranti ostruenti o costrittive che si ottengono attraverso una debole occlusione che si interrompe e si ripristina più volte creando quindi un ciclo di occlusioni ed esplosioni e parliamo quindi di apicali alveolari per esempio la suono l che è una laterale alveolare sonora e si ottiene proprio occludendo la parte centrale del canale orale della bocca e quindi l'area è costretta a passare dai lati della lingua poi abbiamo la post dorso uvulare quindi abbiamo il suono r sarebbe la r rotativa cioè la r francese questa fricativa ovulare sonora sta in posizione intermedia tra la fricativa e la vibrante e poi abbiamo la nostra r che è una vibrante alveolare sonora e si ottiene attraverso un ciclo di occlusioni e rilasci dell'aria posizionando la punta della lingua proprio vicino agli alveoli degli incisivi superiori bene anche questa lezione termina qui mi raccomando iscrivetevi mettete un like a questo video se vi è piaciuto e inoltre se avete dubbi o qualche domanda appunto da da fare non esitate a lasciare un commento e nell'info box vi lascio anche i link relativi ai primi due video sempre sulla fonologia e sulla linguistica se appunto vi interessa questo settore e nei prossimi giorni pubblicherò la quarta e l'ultima parte ciao a tutti da mademoiselle afler